Ma la memoria è importante perché significa ricordare le piccole storie di tanti nostri connazionali che però poi compongono la grande storia, hanno sacrificato alcune volte la loro vita, hanno sacrificato gli anni più belli della loro giovinezza per la difesa della patria e per praticamente consentire poi a tutti quanti noi di conquistare la democrazia, perché la democrazia è stata conquistata anche e soprattutto attraverso il sacrificio di questi uomini. È stata davvero una giornata commemorativa davvero particolare, davvero toccante, importante. Per me è stato un onore poter rappresentare la comunità di Serre in onore appunto delle vittime, dei ladri nazisti e di persone che hanno dato la vita, hanno speso la loro vita per la patria. Queste persone non se le ricordava nessuno, noi abbiamo anche trovato delle persone che sono decedute e che i figli non sapevano che i loro genitori erano stati deportati in Germania, quando lo hanno saputo perché le atrocità che loro avevano avuto non li raccontavano, perché li servavano dentro di loro per non trasmettere agli altri quello che loro avevano passato.